Bella ragazzi sono KBGOKU e oggi siamo qui con un'auto che, aspettate, fermi tutti, ok posso ripartire, mi stavano per volare cuffie, che ha segnato, stavo per dire, la storia dell'automobilismo italiano, europeo ma anche mondiale, adesso vi vado a mostrare qual è l'auto, aspettate eccoci qua, ha un bel toro in mezzo, come vedete ha un volante qua in legno ragazzi e è una Lamborghini Miura, quest'auto è epica ragazzi vi giuro ha segnato la storia dell'automobilismo in quanto a prestazioni, velocità, tenuta, tutto, qualunque auto, insomma solo le Ferrari rivaleggiavano con questo mostro era una delle poche auto a raggiungere i 300 all'ora all'epoca, forse anche l'unica, essere sincero e niente, siamo qui per testarla come al solito sul nostro circuito di Monza, ovviamente è ripotenziata, adesso ha 200 cavalli in più, ne ha 510, 15, però non ho fatto il rodaggio quindi aumenteranno sicuramente e il peso l'ho ridotto di un centinaio di chili, pesa 900 chili e niente, devo dire che non so cosa aspettarmi da un'auto del genere perché è molto leggera, però tenete conto anche che ha 50 anni ecco, quindi possiamo aspettarci molto ma non esageriamo insomma la paragone è contro la BB, anzi dovrebbe andare un po' di più della BB, però insomma vediamo cosa si riesce a fare i tempi come al solito ve li metto alla fine, tanto oh oh, perché altro si imbarca molto facilmente c'è molto peso sul posteriore e poco sull'anteriore, quindi si butta in frenata, si butta, si alleggerisce tutta e si butta vedete, vedete, vedete che va di traverso non hanno molti controlli elettronici queste auto come quelle di adesso come quelle moderne, bellissime mille mila auto moderne allora il tempo è un secolo, no scherzo, 1.49 per una velocità massima di poco più di 300, 308 vabbè ero in ritardo sulla frenata, però circa 308 forse possiamo accorciare di 10 i rapporti, tanto non penso abbia la sesta ah no, addirittura 872 kg, è leggerissimo cioè, bello perché così dovrebbe fare vabbè, lasciamo perdere sospensioni, freni e il ripartitore sarebbe meglio potenziare un po' il posteriore rispetto all'anteriore e magari abbassare un po' il posteriore dato che abbiamo molto abbiamo si imbarca molto l'auto in frenata quindi magari un posteriore un po' più basso ce la fa tenere più inchiodata alla strada vediamo un po' ma insomma non è che il cambiamento che ho portato adesso mi sembra molto significativo però vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa se no accentuiamo accentui accentui boh vabbè lasciate perdere accentuerò di più ancora il no, decisamente no non è il caso di andare a 280 non mi sembra proprio il caso ma scusa l'ho accorciato di 10 prima faceva i 306 cosa sto facendo? prima faceva i 306 ma fa i 280 questa cosa non ha molto senso devo dire però vabbè boh boh voi lo sapete no? ma abbassiamola ancora un po' dietro va questa cosa non ha alcun senso gli ho tolto 10 km orari ne ha persi 24 25 e di là non era neanche a fine limitatore cioè non perso 30 km orari accorciandoli di 10 è molto probabile fa fatica a saltare di marcia qua vediamo un po' cosa si riesce a fare con questa Lamborghini Miura guardate che bella vediamo un po' ma adesso gli ho accorciati di altri 10 e va ancora e l'imitatore entra ancora prima perché questa cosa non l'ho capita ci deve essere qualcosa che non va vabbè siamo andati un po' lungo la prima frenata vabbè fa niente no niente è difficile da controllare sarà che non ci sono aiuti elettronici ma non è per un cacchio facile da controllare ma questa cosa non ha senso ragazzi c'è ora sono più lunghi di prima e entra prima il limitatore boh vabbè io mi fido però lasciamo perdere lasciamo lasciamo perdere dai andiamo dai entra questa quarta fa una fatica a far entrare la quarta oh è impressionante spingi 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 vai allora gli voglio fare almeno i 308 come prima vabbè 304 vabbè si questa fa un po' fatica poi a sul cambio di di direzione se inchiodo troppo perdo quindi dopo magari freniamo ancora un pelo prima no mi sa che i 308 ero lungo di un chilometro teniamo i 304 come velocità massima direi perfetta no bisogna frenare un pelo prima rispetto al pelo dopo con quest'auto perché è molto è molto difficile poi rifarla partire quindi privilegerò il frenare un pelo prima che un pelo dopo oh oh la va bene posso guadagnare abbondantemente un secondo decisamente dato che la prima e la seconda curva le ho fatte male comunque per ora siamo già in vantaggio vediamo cosa riusciamo a fare se non altro non si imbarca più come prima proprio prima lasciate perdere proprio era eh vabbè tempo rosso prima era impressionante non so se avete notato ma prima si girava proprio ora se non altro è un po' più composta nella frenata vedete si storticchia un po' però comunque riesce a stare dentro a un certo canone mettiamola così mi serve vedere se vado più veloce o più piano della mia rivale cioè me stessa vado uguale perfetto vabbè fa niente forse ora ho le gomme calde è andata meglio non lo so vabbè ho frenato uguale a prima se no addirittura dopo è andata meglio fa niente si può essere che sia le gomme comunque lasciamo perdere il tempo può migliorare come abbiamo detto di un bel po' quindi vediamo di andare bene ok ottimo 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 oh guardate lì che vantaggio assurdo no lo schifo più totale qua va bene lo schifo assurdo che ho fatto nella prima di lesmo ragazzi ricordatevelo perché non lo vedrete ancora spesso almeno spero che non lo vedrete mai più perché se faccio un'altra volta un giro così dite questo fa schifo abbandonate subito la nave e iscrivetevi a un altro canale più serio oh guardate qua oh rischi al tempo rosso forse ho messo due dita sulla sabbia due dita poi due ruote due dita difficile comunque vediamo un po' cosa riusciamo a fare poi volevo alzare abbassare ancora il posteriore ho messo che poi non mi giri più magari alziamo un pelo all'anteriore oh insieme all'altro questo giro è molto buono molto abbastanza buono 47 e 327 non so se accorciare di altri 10 i rapporti o tenerli così però vabbè per ora teniamoli così e facciamo gli ultimi tentativi qua con magari l'anteriore più alto abbassiamo un po' la flessibilità questa la alziamo perfetto vai ultimi due tentativi vediamo cosa si riesce a fare vai così miura spaccali tutti spaccali tutti spaccali tutti 3 vai 250 260 270 280 280 2 290 300 2 ha toccato il muretto vabbè giusto un pelinino nino 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 quindi non è che incida più di tanto però che vabbè comunque sarei stato a pari invece sono un pelo dietro però vabbè non si muore vediamo se poi si riesce a migliorare perché prima ha fatto una lesmo da schifo insomma non butto un giro che comunque potrebbe essere buono per un 2 decimi dai si questo non l'ho fatta bene come prima però vabbè allora è un vizio allora è proprio un vizio me la sono ricercata come cosa ho detto voglio farle male le prime di lesmo mi sono messo lì a tavolino e ho detto adesso faccio la prima di lesmo male vabbè non concludiamo il giro cioè concludiamo il giro così imparo a fare bene anche la scari che quest'auto è molto difficile da guidare ecco appunto come non detto devo dire che l'ho fatta benissimo la scari ci mancherebbe solo il tempo rosso poi siamo a posto dai secondo tentativo secondo e ultimo tentativo vediamo di strappare il record scendere sotto il minuto e 47 almeno per vedere che quella lesmo lino mi ha mi ha ammazzato cioè sta terza si allunga secondo me pian piano si allunga prima sembra che deve cambiarla a 140 poi a 160 poi alla fine la cambia a 180 dai velocità massima 303 abbiamo detto adesso ho fatto addirittura i 304 non vorrei andare lungo perfetta dai perfetta 304 con un'auto che ha 500 e qualcosa cavalli è molto buono dai stiamo attenti vai come più dov'è che mi sono fatto imbeccare va bene va bene no eh ho girato un pelo troppo me ne sono accorto però pensavo di non aver perso così tanto bravo kb va bene sono andato sull'erba oh è impossibile da farla stare proprio dentro 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 è è impestata come cosa dai siamo davanti guidiamo bene stiamo tranquilli e scendiamo sotto il muro dell'1.47 con questa miura che è tanta roba si c'è un po' di sovrasterzo ragazzi cioè ho esagerato da un lato eh ho esagerato si vabbè niente mi devo perdere quei due decimi lì si fa niente dai amen ci dobbiamo accontentare di un giro con due decimi di scarto perché due tre no vabbè si due tre decimi non di più perché qua ho sbagliato la scari devo aver toccato troppo le sospensioni il risultato è che appena accelero mi va in sovrasterzo di potenza quindi vabbè basta fa niente quindi il giro sarebbe due decimi meglio ma vabbè ci accontentiamo si si così è andata va bene ragazzi come al solito spero che vi sia piaciuto e ci vedremo con i prossimi video bella ragazzi